Ci tenevamo a far bene anche perché forse la premiazione mancava da Roma da tanti anni e poi farla qui a Vallelunga, in questo centro congresso che si inaugura stasera è stato ancora di più motivo di impegno e devo dire che la trovo effettivamente diversa rispetto al solito e insomma è andato tutto molto bene, siamo contenti. Una ventata rossa che ha riempito di orgoglio un po' tutti gli ospiti in sala. Sì, un'importante presenza, è chiaro che forse la novità in assoluto è questo progetto che sta nascendo non è mai accaduto che la Ferrari si interessasse a piloti giovani da allevare ha sempre preso piloti già affermati e quindi che poi in questo progetto abbia coinvolto anche la Cixai la scuola federale e sicuramente qualche pilota italiano, questo non ci può altro che riempire d'orgoglio speriamo da tifosi di portare un pilota italiano sulla rossa.